Siamo in compagnia del professor Marcello Ciccarelli, docente di matematica e fisica in pensione con un curriculum didattico e pedagogico di rilevo avendo collaborato a progetti di istruzione nazionale e internazionale ed essendo autore anche di pubblicazioni e testi sia disciplinari che didattici. E' lui la nuova figura presentata dall'Istituto San Francesco di Fondi, il nuovo liceo delle scienze umane e lui dunque a svolgere il ruolo del consulente didattico e pedagogico. In cosa consiste nel particolare il suo ruolo? Il mio è un ruolo, appunto come dice la parola, un coordinatore didattico. Diciamo che ovviamente non è un ruolo nuovo nella scuola in quanto questa è sempre una delle funzioni principali della vecchia figura del preside. Comunque adesso da quando è invalsa l'idea dell'autonomia scolastica, il dirigente scolastico, quello che una volta appunto era il preside si trova con una serie di incombenze burocratiche, amministrative e legali di rilievo, tanto da svolgere sempre più difficoltà questa funzione del coordinatore didattico. Generalmente in quasi tutte le scuole questa funzione viene in parte delegata a qualche docente interno alla scuola. Invece il suo San Francesco ha voluto fare di questa figura un ruolo a parte, prendendo non un insegnante della scuola ma un esterno alla scuola e affiancando il dirigente scolastico con questa figura. Cambiamo argomento, parliamo di qualità didattica, un termine che molti operatori scolastici utilizzano, tanto che diviene difficile dare un significato. Può dirci lei cosa intende per qualità didattica? Beh, chiaramente l'obiettivo che mi è stato assegnato dal gestore è stato quello di innalzare la qualità didattica della scuola. Per qualità didattica, ora spesso per qualità didattica si intende tirar fuori i geni, i ragazzi molto bravi, farli diventare ancora più bravi, renderli competitivi sul mercato dello studio, sul mercato professionale. Noi qui come qualità didattica intendiamo una cosa un pochino diversa, intendiamo dare a quanti più studenti possibili la possibilità di inserirsi nello studio. Ora, in questo periodo molti ragazzi, sia perché non trovano interesse nello studio e sia perché studiare comporta fatica e non tutti sono attrezzati per sopportare lo stress e la fatica dallo studio, abbiamo un disinteresse molto diffuso nei confronti dello studio. Bene, noi come scuola intendiamo per qualità didattica proprio la possibilità, la capacità di portare a un livello di affezione allo studio quanti più studenti possibili. Per noi la misura della qualità didattica consiste nella misura degli studenti che riusciamo a inserire in un metodo di studio valido. Ecco, lei parlava del disinteresse da parte degli studenti. Secondo lei a volte gli studenti non sono soggetti a troppe distrazioni esterne? Beh, è chiaro che il problema del disinteresse nasce da questo. Ora, diciamo che ai miei tempi, le agenzie formative erano la scuola, parzialmente la famiglia, dico parzialmente perché già molti di noi avevamo genitori semi-analfabeti, quindi da questo punto di vista c'era poco aiuto, però contavano anche altri valori, e un po' l'ambiente. Oggi, diciamo che a questi tre soggetti tradizionali di formazione si è aggiunto un quarto soggetto che ha travolto tutti gli altri, che sono i mezzi di comunizzazione di massa, nei quali svolgono una funzione formativa importantissima, importantissima che non va sempre nella giusta direzione. E quindi questa distrazione, altro non è che l'attenzione che i ragazzi pongono verso forme di trasmissione culturale, che è diversa da quella scrittorale. Cioè ascoltare un disco, vedere un film, si può fare per due, tre, quattro ore di seguito. Leggere, studiare un libro, farlo per tre, quattro ore di richiede una tecnica particolare.